ciao a tutti buona vigilia questo video sarebbe dovuto uscire ieri cioè il giovedì 23 ma per degli impegni per degli impegni lo porta oggi quindi oggi due video dicevo quindi oggi due video bene fanta calcio quello a due e partiamo subito come si può ben vedere ancora un 11 e mezzo di andanovic quindi di un bonus di più 5 no gol subiti un giallo di barisinski giallo di cialano gru stavolta non ha fatto niente di interessante assist di giro e basta ho dovuto mettere una formazione 4 2 4 perché non avevo centrocampisti benassar che partito dopo anzi partito prima però me lo dava dopo e poi gli altri erano infortunati squalificati barral infatti non c'è parte squalificato barra che non ha giocato infortunato quindi di 6 4 fuori e solo due che giocano sono ridotto così questa giornata poi alla sua parte rui patricio ha preso il gol ha subito il gol e a ramo ha fatto assist e basta non ha messo meno male che non ha messo bairami castrovilli perché sennò la situazione era ben diversa e il risultato è questo 71 57 1 0 per me tra l'altro se vedete bene c'è un nuovo sponsor nella maglia ve lo faccio vedere nella seconda per la seconda si vede bene eh no non c'è più di sponsor è durato solo poco devo ricambiare lo sponsor è durato pochissimo questo sponsor qui però si si vede si vede un po' a me lo modifico adesso al volo questo che si vede poco mentre nell'altra la seconda si vede meglio cos'è sto perché non c'è la croce quindi andiamo con app gallery nuovo sponsor va bene ci vediamo nel nel fantacalcio 8 fantacalcio 8 pareggio del primo in classifica per 1 1 sconfitta del secondo in classifica per 1 a 0 scarse ha perso come nel nel fantacalcio a 2 e ho il colpaccio il colpaccio era di andare a 1 2 punti dal primo con una mia vittoria e passando il secondo che ha perso 1 a 0 con la squadra che mi aveva battuto 3 a 1 la giornata scorsa incredibilmente si ergu tiene la porta inviolata con l'atalanta poi è geno atalanta era non è successo niente pancia gius autogol scrignia 6 di lorenzo 5 e mezzo zenischi pensavo adesso zenischi sono 25 partite che ti fa assist e secondo te vuoi che non te lo faccia che ti fa un bonus ecco questo è il suo andamento di zenischi saltiamo che sia andiamo a mkhitaryan 6 e mezzo maggiore 6 e mezzo simeone martinez destro tutti e 3 5 e mezzo incredibile ecco vabbè ritorniamo anche a one jesus dopo allora che si ha fatto gol e poi come potete anche ben vedere la mia rosa non è che abbia fatto tanto prima della partita del milan ha fatto gol che si poi ha fatto nella partita del napoli dello spezia ha fatto autogol one jesus e gli ho detto dai che forse posso fare qualcosa di interessante visto che ha fatto anche autogol quindi ha preso 3 però vi dico di un pelo è rimasto attaccato al primo gol ha fatto 66 e mezzo faceva poi è arrivato il gol di kessy ed è andato 71 70 e mezzo 71 quello che è poi dovevo pregare se volevo perché già stavo perdendo senza gol di teo Hernandez stavo già perdendo arriva teo Hernandez ha fatto gol però prima aveva anche fatto gol Florenzi che Florenzi qua non ce l'ho e quindi ho detto vabbè lì ormai ho perso lì l'ho perso ah sì l'ho perso contro questo qui che non contro questa squadra qui che non ho mai perso né vinto l'ho sempre pareggiato tutte le volte che l'ho incontrato questo è il terzo turno come sarà andata la perderò come mi son detto ma invece no perché per un pelo con il gol di teo Hernandez sono arrivato a 68 e mezzo mentre lui ha fatto 70 grazie all'autogol se non avrebbe vinto di 2 a 0 di 2 a 1 poi non mi è entrato Krunic che lo davano come titolare invece è entrato Benasser mi ha preso senza voto meno male che mi ha preso senza voto e mi ha dato il 7 e mezzo Kuluzerski l'assist che aveva fatto poi Zola anche me lo dava un po' una percentuale di più rispetto a Jaze da titolare non ha giocato per niente lui la partita e quindi prende il 5 e mezzo già si quindi in poche parole abbiamo in attacco abbiamo fatto tutti e 2 3 attacchi di 3 attaccanti tra 5 e mezzo quindi il fatto sta che risulta questa giornata qui ultima risulta con un pareggio in entrambi pareggio che è importante perché Tremoni non è a più di 3 punti neanche a 3 punti e a 2 punti prima di questo quindi se vinceva mi andava davanti la classifica adesso così vi faccio vedere sono 2 punti abbiamo mantenuto i 2 punti e attenzione perché stanno recuperando anche la seconda parte del gruppo i primi 2 stanno si i primi 2 ne sta recuperando anche se il quinto e il sesto sono distaccati di 2 punti mentre Scarsenal con questa seconda sconfitta consecutiva ha 6 punti da arrivare al settimo posto va bene questo è l'ultimo episodio del fantacalcio di questa 19esima giornata di Serie A 17esima della Lega e basta il fantacalcio non finisce qui cioè non è che non faccio dopo quando inizia non faccio il secondo la seconda parte di stagione la faccio tutta però si conclude il fantacalcio della prima giornata nel 2021 è l'ultima giornata di fantacalcio del 2021 è anche l'ultima reazione ai risultati del fantacalcio per il 2021 e basta come avevo già detto inizio video oggi usciranno due video quindi questo uscirà alle ore quello che state per vedere che state vedendo adesso uscirà alle ore 15 mentre l'altro episodio uscirà non il fantacalcio l'altro episodio uscirà un video alle 18 del gameplay come vi avevo già detto ma avevo detto che Superbike sarebbe tornata il 10 gennaio non è così non è così i video di Superbike ritornano in queste vacanze di Natale bene il video finisce qui mi raccomando iscrivetevi attivate la campanellina commentate condividete e mettete mi piace e noi ci vediamo alle 18 con un video gameplay non è così Grazie.